Come uno scarabocchio a macchiare un'opera d'arte. E' già battaglia contro la maxi-antenna 5G installata da Iliad nel borgo di Fiorenzuola di Focara. Una torre di telefonia di 30 metri che da un paio di giorni svetta sulla panoramica alle spalle della chiesa del paese, eretta ad un paio di metri dalle mura del locale cimitero. Un pugno in un occhio, quell'occhio rivolto sul paesaggio da Cartolina del San Bartolo e di quella Fiorenzuola fresca di inserimento nella cerchia dei borghi più belli d'Italia. Il comune di Pesaro ha ribadito la regolarità dell'iter procedurale di installazione avviato fin dal 2021 ed esposto in incontri informativi con il quartiere. Residenti Consiglio di Quartiere e Consiglio del Parco San Bartolo sono però insorti davanti ad una installazione che si era immaginata ben diversa e sulla quale si era più volte esternata contrarietà. Io l'ho saputo domenica 24 aprile in quest'area qui del bar da un mio amico a cui non ho dato tanto peso. Poi ho visto ergere questo palo, questa semovente che ergeva questo palo e allora siamo partiti e siamo intervenuti perché non è possibile che in un parco nascono queste torri che sono uno scempio proprio, sia per i turisti anche che vengono qua, tantissimi turisti sportivi e quant'altro. Residenti che tentano il possibile per portare Ilia De Comune ad una collocazione su un sito meno impattante. Tant'è che al bar Valbruna è già partita una raccolta firme in tal senso. Siamo partiti da due giorni e già abbiamo raccolto più di 60 firme. Si chiede di trovare un altro sito? Sì, perché anzi in teoria se la tirassero via meglio del tutto, però se cambiassero il sito già va bene, è bruttissima, rovina l'immagine, rovina la salute, rovina tutto. Vogliamo chiarimenti, vogliamo sapere da chi è partita questa cosa, se ci sono le concessioni giuste per poter impiantare un palo del genere in un parco naturale e a dispetto della natura e degli abitanti che lo abitano, ecco, è proprio uno scempio. Forte anche la contrarietà e la preoccupazione di lega ambiente. Purtroppo noi sappiamo che le società che gestiscono non badano troppo alle questioni ambientali, fanno un loro calcolo evidentemente che è di tipo economico e di servizio e quindi chiedono ai comuni di posizionare queste antenne laddove loro credono che sia meglio posizionare. L'amministrazione comunale non è che si può sottrarre perché c'è una legge nazionale che impone che queste antenne vengano posizionate, però certamente l'amministrazione comunale potrebbe intanto informare, parlare con i cittadini per far capire l'importanza o meno di queste cose e poi dovrebbe calibrare meglio anche il sito in cui andare a mettere un'antenna di quel genere perché 30 metri sul mare che si vede st'antenna da tutta Fiornessuola di Focara, voglio dire c'era sicuramente un sito diverso magari nelle vicinanze, sempre dell'amministrazione comunale, il territorio, il terreno. Io penso che questo doveva essere fatto, però ci troviamo così, noi siamo fortemente preoccupati per questa questione.